Ciao a tutti Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete sicuramente capito siamo allo Swank Rally, sono qui ospite di Yamaha e questo è il loro regalo per aver vinto il campionato del Tenere Challenge. Cercherò brevemente di raccontarvi questo meraviglioso evento senza disturbarvi troppo con la mia voce ma facendo parlare le immagini. Vi faccio una piccola premessa. Nello Swank Rally ci sono due categorie, c'è la competitiva quindi una gara a tutti gli effetti con la navigazione con il roadbook e poi c'è la non competitiva dove si naviga con le tracce GPX. Io ero nella non competitiva e insieme ai ragazzi di mezzo, abbiamo deciso di fare il test delle nuovissime Karoo 4. Chi sei tu? Chi è lui? Si identifichi! Il campione del Tenere Challenge! Fai quasi impressione! Abbastanza vero? Qui invece abbiamo Maurizio, giusto? Il Bomba! Il Bomba! Che ha fatto... Sbagliato! Ha fatto il... Sì, Bomba! Bomba! Ok! Grande manico che ha fatto il Mondiale quindi tanta roba! 3, 2, 1... Immagino vi starete chiedendo cosa ci facessi nel campo da cross di Malpensa di notte oltretutto. Questo era il prologo dove ogni concorrente doveva percorrere un giro di pista per definire l'ordine di partenza del giorno dopo. Ci siamo! Andiamo a dormire... 108... 108... Ecco la! Quanti attenti primo pezzo perché dentro il bosco è abbastanza navigata. Seguite bene la traccia. Al limite se volete ci facciamo un piccolo riordino qua fuori, ci aspettiamo tutti. Vi spiego brevemente come funziona lo Swank Rally. Si parte dal circuito di Malpensa, dal circuito di motocross di Malpensa, per arrivare al porto di Genova. Nel tragitto si fa una deviazione nella sede di Pirelli dove sviluppano e testano pneumatici in tutte le condizioni. Sì! 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 si sono comportate molto 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 più che bene, sicuramente al di sopra delle mie aspettative e molto molto soddisfatto, ottimo lavoro. Arrivati al porto di Genova ci imbarchiamo dove viagiremo tutta la notte per arrivare ad Olbia dove finalmente inizierà il vero Swank Rally. Grande Gio! Ciao ragazzi! Oggi le abbiamo messe un po' all'opposta le gomme però devo dire che reagiscono perfettamente anche in questo tratto molto tecnico, tutta la roccia a salire, ripeto, anche leggermente distinta a causa della pioggia, però in questo modo si comporta molto molto bene. Andiamo sulle ombre di Andrea Perfetti, via! Andrei, com'è? Che spettacolo! Paraviso, il posto più bello del mondo è la Sardegna, Italia! Paraviso, il posto più bello del mondo è la Sardegna, Italia! Paraviso, la Sardegna. Vorrei fare un piccolo ringraziamento a questi due personaggi che sono Andrea Perfetti e Antonio Mancuso per aver reso questa esperienza dello Swank fantastica. Ma tu sei sicuro che l'abbiamo preso noi che col vento non è scappato via veramente? Dai, dammi quanto? Anche l'ho io! Aiutatemi, c'è un tiglio, vai cazzare quanto? Vai cazzare il tiglio? Vai cazzare il tiglio, vai cazzare il tiglio, vai cazzare il tiglio! Ma che faccio o no? Ma ce l'avessero tu? Ma va, fangulo, va! Oh, ti motta, ti motta! Te ne paura la paga sempre! Ragazzi, allora, due parole sullo swank? Che figata! Super figata, dai, è stato veramente bello! Siete divertiti? È stato un evento pazzesco! Entra divertiti! Entra divertiti! Location veramente spettacolari! Siamo per la Sardegna! Si sa che, insomma, si presta abbastanza bene! Anche per la moto, non solo per i bagni dai! Assolutamente, direi! Compagnia al top! Ragazzi di Metzeller, Mauro, Antonio Mancuso e Antonio! Grazie ragazzi! Ciao! Salute, grandi ragazzi! Grazie a tutti!